La grande risposta di affetto e stima della gente e dei leader europei alla morte di Benedetto sta richiedendo l'impegno massimo di chi è preposto all'ordine e alla sicurezza in vista dei funerali di domattina in piazza San Pietro. La morte del Papa Emerito ha suscitato ovviamente commozione in tutto il mondo e non sono fra i cattolici. E poi è capitata in un momento particolare anche per Roma in cui vi era una presenza di migliaia e migliaia di turisti. Il prefetto, il questore di Roma, ma il ministro in primis e il capo della polizia hanno dato un input di rafforzare tutte le altre componenti anche del sistema di protezione civile, sanitario e quant'altro. Quante persone sono impegnate in questi giorni? Sono impegnate in questo periodo oltre 1500 persone nei vari turni. È un dispositivo complesso ma collaudato, ben oleato. Forse non ci si aspettava una risposta così di fronte alla morte di Benedetto XVI. Evidentemente questi anni hanno semplicemente tenuto sopite quelle che erano le emozioni. Quello che notiamo noi in queste lunghe file è una paziente attesa.